Le collezioni di Paolo Paoli New Ciao a tutti amici collezionisti e cartoni animati Oggi andiamo a recensire che una serie è già uscita nell'agosto Ma San Carlo Junior a fine agosto usciranno le serie senza licenze di cartoni animati Ma prossimamente San Carlo Junior farà uscire o Elokiti o Miraculous Ma Miraculous non si sa ancora se usciranno Per ora sono usciti per femmine amici cagnolini per maschi Ventosini Squad Ma per ancora c'è ancora Fizzicola Ma alla seguiva non lo puoi trovare più le patatine dei Ventosini Squad Per le patatine senza glutine Oggi per maschi di San Carlo Junior a fine dobbiamo recensire Le patatine della nuova sorpresa Ventosini Squad Ventosini Squad in ogni confessione un Ventosino Dove era figurato tipo quello degli Sticky Selide Home Epicasa E' tipo il Barbecue con le braccia Ok in questa serie c'è nel dice ascolta la storia intergalactica di Faba Perché questa serie fa parte della Faba ma non è di licenza Abbiamo sto blu con un occhio da cagnocchiare che sembra un minion Con il sorriso Fuzia e Neo Fuzia Tutto simile a quello della griglia della Leader Sticky adesso Leader non fa più sorpresine Leader Sticky se è P.O.M. Un mostricciattolo giallo con sei occhi Un mostricciattolo che sembra un pup con un Sembra attravestito da mascotte questo tizio C'ha un ciclope Mascotte di sempre Ma è quello che è questo E' tipo gli Sticky's ma sono uguali e diversi E' quel mostricciattolo rosso che sembra Pac-Man con le corna Ok ci sono anche i loro nomi Li leggiamo adesso la descrizione All'interno il QR code per ascoltare l'avventura dei ventosini creata in esclusiva da Faba Racconta storie Ah sono l'avventura dei ventosini creata in esclusiva da Faba Racconta storie ma non ha nessuna licenza guarda Abbiamo questi personaggi che si chiama Furious Questo quello così in cartone animato Furious Quel barbecue si chiama Papaya Quel mostro giallo da sei occhi si chiama Giallina e femmina Ma non c'ha le ciglia Da femmina Ok Brio Quello travestito da mascotte con ciclope Sti alberelli che sembrano tipo la Sigma La Sisa Si chiama Pinuccio E sembra Pinuccio guarda Un trio di alberi insieme Che sembra uno piccolo Uno medio uno grande Vabbè questa è una serie di Pinuccio di Di alberi di foglie va bene Quello che assomiglia al Minion Zoom Super Brain Super Brain Sto Minion Lidl Basta sbagli errori Uno Stikis verde con un Ippopotamo Che sempre Appiccicato su se stesso Vabbè E Nerone Quello nero Bellissimo Quel personaggio è bellissimo Nerone Sembra un personaggio cattivo Nerone Vi ricordate la recensione degli amici cagnolini Questa serie è bellissima Perché c'è un personaggio 3D Un cagnolino 3D con ciottola E una serie bella Certo che non ho trovato l'aschi Ho trovato questo cagnolino con la ciottola a caso Ma vediamo che cosa abbiamo trovato nelle patatine San Carlo Junio Ventosini Squad Vediamo Anzi quel Nerone mi piace molto come personaggio Forse gli do un 10 su 10 Che cosa ho trovato secondo voi? Questa sorpresa è prodotta da Studio ProSarl come Amici Cagnolini Dalle Morgan Basta mostri ventosini Sono della serie originale San Carlo Juno ma prodotti in Francia Ma con fabba Raccontastorie Abbiamo trovato Pinuccio Una serie di trio di alberi Uno grande Uno medio Uno piccolo Adesso apriamo la sorpresina Ecco Bene bene Incominciamo Allora Mostri ventosini Ok Prodotto da Studio ProSarl Ci sono tutte le sorprese delle patatine Studio prodotte da Studio ProSarl I personaggi 3D Che produce lui Per la San Carlo Junio Basta che Sia quello che Anche Studio ProSarl ha fatto Quello delle automobiline Te lo ricordate il video del 2021 Delle automobiline Con l'album delle figurine Dei cartoni animati Ok Fabba Inquadra il Curcode E ascolta un'esclusiva storia Fabba Potete scansionare Il codice Curcode Per ascoltare La La storia di questo qui Di questo pinuccio Che carino questo personaggio Lo voglio aggiungere negli universi Forse Farò Una collezione Ma Nella Sigma non si trovano più Ma Si trovano solo quelli degli amici cagnolini Ma comunque ragazzi Se commentate questo video Chi volete Votare Come migliore sorpresina Del San Carlo Junior Di adesso Oh Uno A bici cagnolini O Ventosini squad Vicette alle Morgan Qual è la sorpresina più bella Delle Morgan Quel cagnolino Con la ciotola Degli amici cagnolini O Pinuccio Quello di Ventosini squad Se posso lo aggiungo negli universi Se posso lo metto Ma comunque È davvero una bella serie Davvero È davvero una bella serie Ventosini squad Speriamo di collezionare tutti ma Ci saranno ancora queste sorpresine Della San Carlo Junior Vediamo Ma speriamo che resistono Ma per ora C'è anche lì ancora le frissicola Se potete ancora collezionare Perché hanno tre palline Ok Bene Ricapitoliamo Queste sono le fantastiche sorprese Di Ventosini squad Della San Carlo Junior Ecco qua E Voterete Oh Quello di Ventosini squad Pinuccio Oh Amici Cagnolini Quello che ha fatto successo Ha fatto 13 mi piace E 4 non mi piace Vabbè Lasciamo aperte Quindi mettete ancora Non mi piace Mi piace Ma sto migliorando Il canale delle collezioni Di Paolo Paoliniuv A presto Le collezioni Di Paolo Paoliniuv